Martedì 4 giugno si terrà a Camaiore presso il Teatro dell'Olivo con inizio alle 21 lo spettacolo musicale dal titolo Concerto di Beneficenza in memoria di Concetta Pardini, secondo evento organizzato dall'Associazione Italiana contro le Eulucemie e dalla musicista Cristina Bianchi. Sarà una serata speciale dedicata alla grande musica classica per clarinetto, pianoforte, flauto, contrabbasso e batteria. Anche quest'anno ho organizzato il concerto di Beneficenza al Teatro dell'Olivo dopo il successo riscosso del scorso anno. Quest'anno ci saranno delle grandi novità, sarà uno spettacolo nella musica. Invito tutto il pubblico a partecipare numeroso, non vi posso anticipare niente. Invito anche per un altro motivo il pubblico a riflettere, a fare una riflessione sul motivo principale per cui è stato organizzato il concerto, che è la Beneficenza e la donazione per la ricerca di queste malattie così importante e pericolosa che è la leucemia e il mieloma. Il concerto è stato organizzato in associazione con l'AIL, che è l'Associazione Italiana per le Leucemie. Tengo anche a precisare che la serata, l'ingresso al teatro sarà totalmente gratuito. Sarà soltanto la generosità delle persone a far sì che la nostra vita migliori.